Musica Amiche amici di Roma 1, buongiorno, ben trovati a un altro incontro faccia a faccia con un candidato sindaco di Roma poco fa perché ha seguito la diretta, ennesimo invece scontro nella sfida nei municipi, in questo caso sul secondo municipio. Noi continuiamo a conoscere le persone e i programmi dei 19 candidati sindaco di Roma perché oggi è stata riammessa una lista, Roma risorge e quindi tornano ad essere 19, ma non più di 20, però ci siamo quasi. Oggi saluto e ringrazio Armando Mantuano, candidato sindaco di Milizia Cristi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Siete tanti, no? Insomma noi diamo spazio a tutti per la Parcondice, lo facciamo molto volentieri per far conoscere ai cittadini le diversità, perché insomma ci sarà qualcosa di sostanzialmente diverso. Lei come Milizia Cristi, naturalmente, insomma è molto nota la formazione ultracattolica, possiamo dire, ieri abbiamo avuto il candidato sindaco di Italia Cristiana, cosa vi differenzia ad esempio? Avrei fatto la stessa domanda a lui se l'avesse anticipata, no? Allora, innanzitutto ciò che ci caratterizza sicuramente è applicare la dottrina sociale della Chiesa nella vita sociale, diciamo, quindi aiutare e proporre la solidarietà e quindi diciamo che dal punto di vista dei valori con l'amico di Italia Cristiana non ci differenzia molto perché ci impegniamo, diciamo, seriamente, senza compromessi per attuare il bene comune nella società. Forse ci differenziano le esperienze, ecco, noi abbiamo avuto delle esperienze di cittadinanza attiva nel primo municipio, abbiamo controllato in prima persona lo svolgimento di alcune sessioni dei consigli municipali, come invito a fare tutti i cittadini. Abbiamo anche manifestato per la tassa iniqua dell'Imu sotto il Campidoglio, abbiamo fatto delle iniziative che ci hanno portato gradualmente a fare questa scelta, cioè in prima persona in qualche modo a attuare i nostri programmi in prima persona nelle istituzioni, non solo attraverso il volontariato, cosa che già facciamo comunque come movimento. Ecco, perché non basta il volontariato, l'impegno civile, ma bisogna anche candidarsi? Perché la situazione è assolutamente grave, nella nostra società ci sono persone indigenti agli angoli delle strade del centro storico che abbiamo dovuto raccogliere, abbiamo dovuto anche purtroppo constatarne il decesso. Personalmente ho avuto questa triste esperienza circa due mesi fa e domani ricorderemo questa persona che non ha avuto spazio in nessun giornale, in nessun comunicato di nessun partito, in nessuna giunta che si è inginocchiata di fronte alla morte di questa persona e neanche i giornali non ne hanno parlato. Quindi una politica sociale prima di tutto per i più bisognosi, ma cosa vi ha deluso nell'attuale sindaco, ma andando anche indietro, due modelli diversi di assistenza sociale, sempre detto di finanziare anche questo mondo, Veltroni e Alemanno, qualcosa di buono ci sarà stato in entrambi? Assolutamente latente, una continuazione, in questo c'è grande continuità, le politiche sociali hanno sempre appelo d'acqua e molto spesso sott'acqua, quegli interventi che sono stati fatti sono stati fatti una tantum e non sono continui, quindi non servono al vero bene delle persone. Io penso per esempio al bonus bebè, diciamo che se uno frequenta le amministrazioni saprà anche che i bonus bebè richiesti forse due anni fa saranno pagati nel 2014, però a parte questo comunque vengono erogati degli aiuti una tantum, non sono continui e poi sono troppo bassi, 35 euro per una donna che a fine mese sono 950 euro, che ha un bambino, sono assolutamente sotto la soglia della sopravvivenza sia per lei sia per il piccolo, non si aiutano così, non si aiuta la vita nascente, non si aiutano queste donne in difficoltà che devono portare avanti con difficoltà la nascita e la crescita di un bambino, tra mille difficoltà, quindi devono essere potenziati, in alcuni casi devono essere organizzati meglio, quindi ci deve essere un'armonizzazione nell'amministrazione e una semplificazione, perché il vero dramma della nostra amministrazione, questo è sempre anche un segno di continuità con le varie amministrazioni, è che è cervellotica, è complessa, è fuori dalla portata del cittadino. E lei cosa farebbe invece se potesse come prima azione per i cittadini di Roma? Beh, come prima azione noi abbiamo quella di voler dare la casa di proprietà alle giovani coppie di neosposi, questo lo vogliamo fare attraverso un fondo di garanzia che il Comune potrebbe prendere benissimo abbattendo le consulenze esterne che per esempio il sindaco Alemanno utilizza per 20 milioni di euro, con solo 2 milioni potrebbero essere portate avanti queste politiche di aiuto a queste coppie che vogliono avere una casa di proprietà con un calone fisso di 520 euro al mese che quando sono ritornati indietro vengono divisi per progetti di microcredito per le piccole e medie imprese e per le famiglie in difficoltà, casse integrate per esempio che possono restituire anch'esse questo denaro creando un circolo virtuoso dove alla fine nell'amministrazione si crea addirittura un surplus, un guadagno e si aiutano concretamente le piccole e medie imprese, il prodotto locale, le famiglie numerose, casse integrate, le ragazze madri, le coppie che vogliono farsi un futuro perché il futuro della nostra società è la famiglia, è una casa di proprietà, è un lavoro stabile, aiutare le politiche del lavoro attraverso un delegato in ogni municipio che possa coordinare 24 ore su 24 la domanda e l'offerta, ci sono dei centri di eccellenza, ecco vede noi nel nostro volontariato abbiamo conosciuto tante realtà e si tratterebbe solo di armonizzare queste realtà sul territorio coniugando per esempio domande e offerta di lavoro, ci sono dei centri di eccellenza nella formazione professionale che potrebbero produrre professionalità quindi aiutare i disoccupati, i cassi integrati ad avere quella competenza necessaria per rientrare nel mondo del lavoro secondo le esigenze del mercato del lavoro, per esempio un imprenditore potrebbe chiedere una specializzazione, un lavoro specifico e potrebbe essere accontentato attraverso questi centri professionali, tante cose vogliamo fare, per esempio la cosa che ci sta più a cuore, che è anche un tema molto diciamo attuale perché adesso si sono accorti tutti che diciamo è una cosa che va assolutamente contro il benessere e la dignità dell'uomo, è la tassa sulla prima casa, la tassa dell'Imu, però qua il sindaco Alemanno rivendica che ha trovato i finanziamenti per toglierla alle fasce più deboli, no? Sì, sì, lo sappiamo e ne siamo anche contenti perché noi non siamo ipocriti, però sappiamo anche che c'è stata l'aliquota più alta nella seconda casa e fra le più alte nella prima casa e quando era così e delle elezioni erano molto lontane, noi stavamo solo noi sotto al Campidoglio, se lui può alzare le aliquote e fare delle detrazioni, noi che vogliamo, che abbiamo in mente solo di abolirla questa tassa in Imu, possiamo fare molto di più, soprattutto perché vogliamo diminuire i consiglieri comunali che già sono stati diminuiti, è vero, lo sappiamo, ma noi sappiamo che si può limare ancora, si può limare ancora perché comunque è un'amministrazione elefantiaca che necessita di un po' di snellezza, semplicità e snellezza anche in questo senso. Se io fossi sindaco, se lo fosse lei, troverebbe un buco di bilancio molto grande, lei ha parlato delle consulenze, siete in molti, devo dire, tra i candidati che vanno lì pensando di poter trovare i soldi, non basterebbero evidentemente per un modello di città così bello, anche così vicino alla famiglia, che altro farebbe rispetto ai dettagli? I soldi, guardi, è notizia di pochi giorni fa, i soldi ci sono, perché? Allora, innanzitutto per le politiche sul lavoro è stato detto che sono stati un fallimento di centri di collocamento, solo il 2,7% dei giovani disoccupati riesce a ritrovare lavoro grazie a questi, il 2,7%, fallimento totale. Allora, ci sono dei fondi europei, è stato detto, a cui si può attingere per queste politiche, per esempio, questo non si è mai saputo, si è sempre detto che il limo era indispensabile per le politiche sul lavoro e questi fondi europei, nessuno ce l'aveva detto, sono stati sbloccati sempre da Alemanno, 450 milioni di euro per delle politiche sullo sviluppo attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare, per esempio, ci sono 33 milioni di euro che ci costano le occupazioni illegali di questi immobili, insomma, sono cose legittime a cui possiamo attingere per fare delle politiche sociali, per dare una casa e un tetto alle persone che ne hanno bisogno e a non creare quelle sacche di illegalità che si creano, per esempio, negli immobili occupati, per cui si creano delle strumentalizzazioni, sai, io ti do la casa, io occupo quella casa, ti do la casa, poi però tu, magari mi faccio pagare un caone piccolo, per carità, però a nero mi faccio pagare qualche cosa, oppure ti strumentalizzo, per le manifestazioni ti voglio presente, per le mie manifestazioni ti voglio presente. Guardi, noi ne parleremo anche più tardi oggi, a dire, abbiamo uno della casa con la storia di uno sfrattato e poi arriveremo anche allo sgombero dell'altro giorno, per esempio a Tortreteste, però certamente 3 mila persone che vivono nei residence a Roma, più tutti quelli in attesa di una casa, più tutti gli stranieri anche disperati, insomma, che ne facciamo di questa sacca enorme della nostra città, umana. Abbiamo detto che ci sono 450 milioni degli immobili del comune, questi immobili verranno venduti, attenzione, bisogna sapere, ecco, c'è sempre trasparenza dell'amministrazione, sicuro che si devono vendere oppure si possono utilizzare per politiche sociali al fine di dare una casa, un tetto, poi ci sono delle situazioni irregolari, ci sono casi e casi, vanno valutati, ci deve essere una commissione di trasparenza in questo, ci deve essere una valutazione obiettiva, che non faccia delle preferenze politiche o delle preferenze di comodo e non ci deve essere il far west soprattutto, non deve essere il primo che occupa vince, chi parla più forte vince, non va bene questo, è un'amministrazione debole, un'amministrazione che cede su questi punti. Ci deve essere una politica sociale seria che dia credibilità, allora in quel caso si risolverebbero metà dei problemi perché le occupazioni illegali non avrebbero più ragione di essere e quindi si comincerebbero veramente a pensare e a ridurre gli sprechi perché quando si pensa alla dignità della persona, quindi a dargli una casa di proprietà, non ultimo alle ragazze e madri, ai disabili, vogliamo parlare dell'assistenza dei disabili, come è fatta e come dovrebbe essere fatta. È fatta in modo disorganico, noi conosciamo tante persone che affrontano giornalmente quotidianamente queste situazioni, le posso assicurare che vedrebbero volentieri un'amministrazione capace di dialogare di più con loro e che non vada a schemi fissi per cui hanno difficoltà a rientrare in un parametro e da cambiare parametro. Insomma un'amministrazione dal volto più umano, lavoreremmo tutti in generale, anche uno Stato, così certamente è però un'idea chiara. Sì, ma più vicina nel senso che sia un'amministrazione, la trasparenza si riflette anche per esempio nelle leggi, non le capiscono neanche loro, cioè ci deve essere un modo per cui ci deve essere una responsabilità, è un modo di affrontare le questioni il più chiaro e semplice possibile. Lei ha parlato del centro storico, visto che nel vostro programma parlate molto anche, parlate insomma anche dai vari punti di sicurezza, di decoro, no? Ecco, restiamo un momento sul centro storico, definito anche da noi a volte un suc per certe modalità che conosciamo, certe cattive abitudini, per mancati controlli, lì su che cosa punterebbe? Che può dire più sicurezza e più decoro in centro secondo voi? Allora sì, noi come lista civica milizio e crisi, sottolineo lista civica perché purtroppo ci sono delle liste civetta che non sono civiche perché sono apparentate ai vari partiti, noi assolutamente siamo passati dalla cittadinanza attiva. Tanto la prima volta abbiamo detto che vi candidate in assoluto. Sì, in assoluto, siamo andati nelle strade a chiedere le firme, non ho visto tanta competizione su questo. Che vuol dire più sicurezza nel centro storico? Per esempio c'è una milizia, adesso gioco un po' col nome, una milizia cristiana che controlla, lo scondrismo cristiano che porta le coperte agli indigenti, guardi. È questo qui, nel senso, noi lo facciamo, lo facciamo già, abbiamo visto tante associazioni di volontariato che lo fanno e si chiamano anche con nomi esercito della salvezza, questi nomi che poi alla fine quando poi le incontrano queste persone, ecco, vediamo veramente che cos'è praticamente il bene comune, perché quando si incontra con le persone indigenti nel centro storico, si vede accartocciate per strada, ecco, non è solo un problema di decoro, è un qualcosa che offende l'animo cristiano di quel quartiere dove c'è la basilica mariana più antica del mondo, dove c'è il palazzo della Teranense, San Giovanni, Santa Croce, le reliquità, insomma, tutte queste cose non sono simboli, sono carne e sangue, solidarietà e quindi... Infatti voi parlate proprio di volontari della solidarietà, no? Sì, esattamente, questa è la nostra accezione anche un po' provocatoria, perché quando lo dicevamo all'inizio eravamo visti molto male, perché naturalmente si pensavano di esaltati che andassero col mitra spianato. In realtà la cittadinanza attiva è proprio questo, monitorare, nel senso, vedere le situazioni di disagio è anche sanitario di queste persone, aiutarle, malati psichici molto spesso, e con cui ci si deve confrontare, non è assolutamente facile fare la carità, tra virgolette, una delle cose più difficili che esista al mondo, che richiede più coraggio al mondo, solo chi lo fa lo sa. Quindi affrontare queste situazioni di disagio psichico, di disagio sociale, sanitario anche, con gli strumenti giusti, ma soprattutto vedere le situazioni di conflitto anticipatamente, per cui si può monitorare, vedere dove c'è lo spaccio, dove ci sono... Io ho visto con i miei occhi un ragazzo che si bucava al parchetto di Piazza Vittorio e vicino c'erano i bambini che giocavano a pallone. Ora, stava anche in una situazione molto particolare questo. Naturalmente i cittadini poco possono fare in queste situazioni, se non chiamare le istituzioni preposte, il 118, il 113, il 112, cosa che abbiamo fatto noi. Mantuan, abbiamo pochi minuti ancora, sfruttiamoli al meglio, cerco di fare un altro paio di domande. Vi siete segnalati sempre contro il Gay Pride, apertamente, dicendo un affronto alla città, uno sfregio, riportando anche le parole del Pontefice. Giovanni Paolo II. Su questo non cambiate l'atteggiamento, nel senso che non si dialoga su questo con Milizia e Cristi. Noi non odiamo nessuna persona e dialoghiamo con tutti, però siamo profondamente contro ogni offesa della dignità, sia della persona che del carattere anche cristiano della nostra città, perché ogni volta queste manifestazioni si trasformano in pretessi per offendere chi ha una sensibilità cristiana. Ora, non so se lei ha visto... Noi siamo anche, per esempio, contro manifestazioni come quella del primo maggio. Ora, non so se qualcuno... Perché? Perché? Proprio proprio per lo stesso motivo, non è che ce l'abbiamo col Gay Pride e basta. Ecco, per noi, tutte queste manifestazioni, magari lei ciste, per esempio nel primo maggio lo sai che è successo, no? Un po' di tutto, insomma, ragazzi. No, ma quel cantante che ha alzato il preservativo come fosse un osse, no? Una strumentalizzazione che a voi non mi è piaciuta, certo. Uno schifo. No, non è solo una strumentalizzazione. Quella è stata, penso, la rivelazione di quello che realmente sono purtroppo questi appuntamenti. Lavoro zero, perché comunque noi abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama non solo il primo maggio, cioè il 2 maggio, che abbiamo fatto. No, 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 nostra sede... Scusi. Abbiamo dato possibilità a tutti di portare un curriculum e noi, indipendentemente dall'esito delle elezioni, ci siamo impegnati a cercare un lavoro. Per esempio, noi abbiamo conosciuto il signor Paolo, di fronte all'Eur, stava lì sdraiato per terra mentre passava a Lemanno per convalidare la sua lista e ci ha raccontato la sua storia. Gli abbiamo detto di venire. Lui non è stato mai aiutato dalle istituzioni, è stato sotto sotto al Campidoglio per due mesi e non se l'è filato nessuno. Quindi questa politica del lavoro, quanto ci è costato al primo maggio? Eh, ma quanto si poteva fare con quei soldi per le politiche sul lavoro? Ma poi soprattutto quanto stona col carattere di San Giovanni. Lo sa che per... No, questa è una posizione chiara. Per molti romani, magari, certo, non quelli che la pensano come, insomma, c'è già troppa chiesa, nel senso che poi si dice da sempre decide la chiesa, influisce anche sulle politiche romane e come e molti, aggiungo anche, vorrebbero, insomma, che la chiesa pagasse l'Imu, no? Velocemente perché abbiamo pochi secondi. Se lei facesse un censimento a San Giovanni, penso che tutti non vorrebbero il concertone del primo maggio, che è veramente una cosa anche potente. Ah, uscendo però dal concertone, in generale, sul rapporto con la chiesa. Cosa dice lei ai romani? Ma che dico ai romani? Io sono romano, credo che il romano non possa prescindere, in qualche modo, dalla chiesa. Sicuramente è sempre un rapporto conflittuale alla Pasquino, però guai a toccargli il papone, tra virgolette, guai a toccargli la chiesa. Penso che si può vedere anche dalle folle oceaniche che continuano a venire da Papa Francesco, nonostante che siano passati quanti mesi, ma io penso che ci sia più attaccamento, tra virgolette, da questa figura istituzionale che poi lui non fa nulla di istituzionale, è solamente invita all'amore, all'amore cristiano, che vogliamo parlare di quanto sono affezionati al Presidente Napolitano o al Presidente Leto? Meno che al Papa, dice lei l'ha conosciuto il nuovo pontefice del Papa Francesco? No, purtroppo no, purtroppo no. Senta, l'ultima cosa, a volte invece leggiamo anche, insomma, come cronisti, scontri, l'ultimo episodio qualche settimana fa, ai primi di marzo, saresti stati oggetto di un'aggressione, due militanti dei centri sociali, ecco, anche qua, insomma... No, erano tre militanti nostri, se vuole chiamarli militanti, per noi non c'è problema, contro una ventina di, se vuole chiamarli anche loro militanti, dei centri sociali, se non si capisce. Sì, allora, mentre affiggevamo i nostri manifesti, assolutamente, erano contro l'aborto, mi sembra, era la fiaccola d'antiabortista che facciamo ogni anno, da molto tempo, circa vent'anni all'isola Tiberina, quindi assolutamente penso una cosa che dovrebbe unire tutti, perché ci si lamentava tempo fa che i fedi abortiti venissero, inquinassero il Tiberi, quindi utilizzati come rifiuti speciali, e questo era il problema principale, mentre noi invece li consideriamo persone, esseri umani, che tra l'altro, dato che non votano, quindi non ci si può accusare di strumentalizzazione, di persone di minori. No, ma non volevo stare tanto sull'episodio, volevo dire anche qui, insomma, le tensioni continueranno, secondo lei? Ma guardi, ma guardi, non è che i cristiani penso che subiscono molta più violenza in altre parti del mondo, non ci fanno paura, certo, queste cose, preghiamo anche per loro, ecco, che dobbiamo dire, hanno fatto un'ennesima, hanno rivelato esattamente che cosa sono, ecco, che cos'è questa cultura dell'estremismo ideologica della violenza, secondo noi fomentata anche dai grandi partiti, che bene o male hanno questa sacca di malcontento che possono gestire al loro piacimento. Ecco, noi ci fanno anche un po' tenerezza, perché sappiamo, noi ci siamo passati nel mare delle ideologie, non è che siamo nati ieri, ci confrontiamo un po' con tutti e crediamo che forse l'indipendenza vera sia, se c'è un'identità veramente cristiana. Se si arriverà un ballottaggio, ho già letto che voi avete scritto, sono, nessun accordo, nessun dialogo con nessuno, con un candidato nell'altro, eventuale, e non le ho chiesto in apertura, glielo chiedo ora, che cosa fa nella vita, per candidarsi, insomma, a sindaco di essere altivista, inizia a crisi, velocemente, la prego, un pochi secondi. Praticamente abilitato, avvocato, insomma, e poi ho intrapreso la carriera da canonista, faccio una scuola di specializzazione, un po' un raccordo tra teoria e pratica, quindi sulle professioni legali, ho fatto un master in criminologia, quindi un po' la carriera a forense, diciamo, tra virgolette. Senta, agli ultimi 30 secondi glielo lascio, come a tutti i candidati, per un suo appello direttamente ai nostri telespettatori. Va bene. Io sono passato dall'altra parte della barricata, tra virgolette, proprio per distruggere questa barricata, ecco, da cittadino a, spero, vostro rappresentante, voglio portare le istanze del volontariato, che si interessa alla dignità della persona e da qui, diciamo, il decoro della città, non il decoro di una città senza persone. E cercare, insomma, di portare queste istanze, perché si può fare già qualcosa per il tessuto sociale, non dobbiamo per forza aspettare che cambino i vecchi partiti dall'interno, oppure che il Presidente del Consiglio direttamente faccia delle leggi per poter aiutare questo o quell'altro. Cioè, è una sussidiarietà che noi vogliamo applicare nel locale, con il volontariato, apportando le buonissime stanze della nostra società a un livello più alto. Bene, questo era Armando Mantuano, candidato sindaco per Milizia Cristi, al suo primo, insomma, al suo esordio elettorale. Ripeto, insomma, ai nostri telespettatori, tanti candidati, ma che rappresentano anche veramente una grande diversità, speriamo anche una ricchezza, si può dire, insomma, per la città. Mantuano in bocca al lupo come a tutti gli altri e vedremo come andrà. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Grazie. A rivederlo. Facciamo un piccolo break pubblicitario, poi torniamo con un altro ospite, ma parleremo di casa, racconteremo la storia di uno sfrattato tra i tanti, una storia drammatica e linea aperte, come sempre, a voi telespettatori, a Ditola Roma 1. Ma ora la sigletta di Verso il Campidoglio. Grazie a tutti.